Che posso? Sta comendo lasagna? Baci famiglia, baci famiglia di santo me Baci famiglia, baci e quando papai vi è Papà, stai facendo una foto? No, un video, un filmato E' questo video che sto facendo Ma anche questo è un video Ok, vabbiamo Calma, bechamel, vabbiamo Ok Está buona Está buona Questo vedrai E di questo che ci sono Nooo Che foi? No, non è che non Papà, oggi stai mangiando tutto Per me vedere Ok, più un pochino Toma Gostoso Cad'è il papà? Papà? Mamà Mamà, vanno tutti O che c'è qui è più? Ehi Ehi È sì È sì È una delicia questa lasagna Vabbè, un pedacino T'o T'o C'è anche La ultima sperai